Siamo in autunno ragazzi, quali frutti autunnali conoscete? Mena, pera, banano. In questo periodo c'è molta più frutta in giro. Guardatevi attorno oggi, tornando a casa. Ciao, qua non c'è proprio niente. Ciao T. Sì, proprio T. Ma allora, non ti guardi in giro? Noi cacchi siamo dappertutto in questo periodo. Da quando è qua cacchi parla? Addirittura, a strugnano e fa la festa dei cacchi. Ma poi, vada che che ne se tanti altri miei colleghi, che la gente sega di smentica di loro, ma che cresci ancora qua da noi. Ti presento la Gnespola. Mi sono la Gnespola e cresso a novembre. Venivo regalata come buona man, ma ormai non mi calcola più. E poi, se tanti pomi, forse questo ti lo conosci. Mi sono il pomogranà e, per fortuna, da mi si ricorda ancora, perché ho tante vitamine. Anche da me si ricorda ogni tanto. Sono il pomo codonio e con me fa una marmellata che forse la conosce, la cotognata. De me, invece, non si ricorda più nessuno. Sono il pomo de ferro e mi metteva a maturare in cantina tutto l'inverno, per poi mangiarmi a febbraio. E dopo, tutti questi pomi, vediamo altri frutti. Sono la sorva e qualcuno mi chiamo anche bricola. Sono oramai rara e proprio dimenticata. mago tanta vitamina C che somiglio a piccoli pomi. Penseve che una volta i credeva che potessimo tenere lontani spiriti e le streghe. Non potemmo essi mangiare subito, ma dovemmo maturare nella paia. Quando che la nostra polpa la diventa più dolce. Mi sono la zizola e in tutta Italia mi chiamma giugola. Non ho mai sentito il detto andare in brodo del giugiole. Anche da queste parti mi faceva questo brodo, che non era altro che un liquore. Siamo le fragole di albero. Che in italiano i che dice corbezzolo. E anche se non è d'opera come ornamento, noi siamo assai dolci. E se si può mangiarne. Io ho trovato questa frutta naturale. Cacco, mescola, pomo granale, pomo docino, pomo del ferro, pomo musetto e pomo della rosa. Servole, figole e fragole di altro. Bravo, molto bene, bella ricerca. E voi, ricordate questa frutta che molti hanno dimenticato? Altro che ricerca. Se non vi era il calco che vendava la dritta. Anche da ora spaziolevo già la figura degli altri. Grazieически. Grazie a tutti.